Parliamo con il match winner Davide Rossi, insomma dovevi sostituire il bomber nel ruolo, l'hai fatto anche nel gol decisivo. Sì, sono contento per il gol, a parte quello per la vittoria soprattutto perché si era complicata la partita non riuscendo a sbloccarle con le partite qua, più passa il tempo più è più difficile. Poi il campo non aiutava a giocare, il tempo passava, loro si chiudevano, prendevano fiducia e c'è stato il rischio appunto di non portarla a casa, siamo stati bravi a crederci e a sbloccarla. Invece dove siete stati un po' meno bravi? Nel davanti, nella precisione o cos'altro? No, secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo creando molto e per magari un po' di imprecisione, un po' di sfortuna non siamo riusciti a fare gol. Al secondo tempo magari abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, un po' troppa frenesia, volerla sbloccare. Passava il tempo appunto, vedevi che si accorciavano i minuti, volevi sbloccarle, forzavi magari qualche giocata dove invece c'era da aspettare, farla girare e trovare il buco giusto. È arrivata un'altra vittoria, adesso arriva il rush finale di campionato. No, sicuramente è stata una vittoria molto importante soprattutto perché la Virtus riposava e abbiamo saputo che il Lecco ha pareggiato, quindi abbiamo allungato sulle inseguitrici. Pensiamo a giovedì che c'è un'altra partita importante da portare a casa.